Questo video contiene alcune scende di violenza, se pensate che vi possa dar fastidio vi sconsigliamo la visione E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki E io sono Steph, e che si giochiamo a GTA 5? E siamo tornati qua nel nostro Motor Club Questa volta cercheremo di fare delle missioni per cercare di farlo aumentare di prestigio Esattamente, è ora di aumentare la reputazione del nostro club Stai barcollando? Sì Hai bevuto? Cioè, prima di iniziare questo video ti sei ubriacata? Sei seria? Davvero? Ops Qua dobbiamo aumentare la reputazione del nostro club Stai zitta Stavo ancora valutando la barista Zitta Non è colpa mia, la barista Devo farti la ramanzina Dobbiamo aumentare la reputazione del nostro club Dimostrarci delle persone pericolose in tutta Los Santos E tutti ubriachi prima delle missioni Vergognati Ok? Per niente, sinceramente, dovevo ancora vedere se faceva dei drink buoni Non mi interessa della barista Sai che io e la barista non andiamo molto d'accordo Sei il vicepresidente per un motivo Comunque Ignorando Ferinichi che ne combina sempre una pezza dell'altra Dobbiamo appunto farci conoscere a Los Santos Fare anche qualche soldo perché siamo poveri Puoi scegliere tra affari in fumo, piromania e scassaforte Eh, dai, proviamo scassaforte Lo sapevo Solo perché mi fa ridere il nome Ok Scassina la cassaforte e porta il denaro al punto di consegna Ah, non sarà semplice Non ce ne teniamo? Va bene, va bene Non sarà semplice 30 minuti per farla Questa volta abbiamo le nostre moto per andare Che è tutto più figo Quindi partiamo Assolutamente sì Anche in condizioni climatiche davvero averse Stiamo riuscendo ad arrivare nel posto Mancano Finalmente Abbiamo ancora 18 minuti C'è la neve C'è una lag incredibile nella sessione che diciamo non sta dando una mano Però siamo quasi arrivati È una zona dove non si potrebbe entrare Eh, l'ho notato Però non ci sono guardie fuori Quindi diciamo che almeno entrare sarà semplice E non ho idea se dobbiamo andare nel palazzo di sinistra o di destra Cerchiamo di capire subito prima di tutto quello Sei arrivata? Sì Aspetta che lascio la moto qua e arrivo Ok Inizio ad entrare Vai Tengono la cassaforte da qualche parte di sopra Quella è una guardia Ok Allora Eh, ma secondo me Aspetta, fai silenzio Se la uccidiamo facciamo un disastro Infatti cerco di ammazzarlo con un colpo di fucile No, niente L'ho dovuto ammazzare Oh, mamma mia Quindi, saldo che ci siamo Guarda quanta gente c'è dalla minima qua No, 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 no Questa è una pezzina Io compro questa porta e tu l'altra Muori Ok, uno morto Due morti Tre morti Io ne sto uccidendo anche qui fuori Cioè, tutti quelli che vedo sto facendo fuori Quattro Cinque Sei Questo è vivo Sette E credo anche otto Allora salgo su Ok Dove sei? Ho fatto fuori in metà del posto Ok E sono arrivata alla cassaforte Però c'è ancora gente Ok, ucciso Ti aspetto Dove la vedi la cassaforte? Devevi salire appunto dove eri Dove ti hanno ucciso Ok, eh, sono qua Però tu dove sei? Ancora più su? Qui Perché non ti vedo? Sì, sono più su, allora Coprimi Credo di aver capito come funziona Sì, ti copriamo in due qui Vai, muoviti Allora, devo girare fino a quando Non sta vibrando tantissimo E fermarmi Non può Aia, mi stanno sparando Eh, li vedo, li vedo, li vedo E spara? Ok, fatto fuori Ok Aiuto, sta arrivando un sacco di gente Devi muoverti Mi fermo, mi fermo, mi fermo Da dove arrivano? No, ce la facciamo Siamo in due, ce la facciamo Tu pensa a scassinare Ok, concentrato Allora, quando vibra molto Mi devo fermare Ok Con calma Con calma Non devo pensare che ci sono 2000 persone a sparare Devo stare tranquillo Non ci pensare infatti Tranquillo Muoviti 40 Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Vai, vai Prendi il denaro Ok Credo che mi devi dare una mano Prendi l'altra parte Ok Presa Eh, credo di sì Sì, porta il denaro al punto di consegna Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo, andiamo, andiamo Ci sono dei player che ti inseguono Ma perché è sempre a me? Perché? Sì, ti stanno sparando No, io già non ci sono L'ho ucciso L'ho ucciso Oh, grazie, accidenti Che li odio Mi stanno inseguendo da due ore Ma vai a giocare Fatti gli affari tuoi Accidenti a te Ci vogliono rubare i soldi Ha senso Abbiamo pure un tipo dietro Con un veicolo blindato Quindi dobbiamo correre Velocissimi Cioè, sta diventando Una cosa incredibile È molto, molto vicino È pericolosa Che quello in moto L'ho headshotato Non so neanche io come Dato che stava andando velocissimo Sì, era super veloce Cioè, c'era questa moto Che era una cosa velocissima Allora Mi era giunto in zero secondi Quello blindato Si è messo a litigare Con quello che io ho ucciso Vai, litigare E si sono fermati così Siamo salvi Ci sei? Ci sono Vieni, vieni, vieni Ma come l'hai parcheggiata la moto? Ma non lo so Fretta, muoviti Ok In mezzo alla strada va benissimo Andiamo Andiamo Fatto? Sì Ha portato due borse di soldi Al punto di consegna 17.000? Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Sì, 17.000 Quindi non male Pagano, pagano davvero bene Pagano davvero bene Recuperati la tua moto va Sì Per favore Sì, sì, sì Adesso torniamo al nostro club Che ormai Mi ha investito un canno È quasi vicino Perché stavo dicendo vicino Ah, si chiama Mark Mi ha appena chiamato Mi ha detto Ottimo lavoro La smetti? È in PC del cavolo La smetti Calmati Non mi fa prendere neanche Aspetta Non ho capito Cosa bisogna fare Non sparare Ti ha investito quello dopo Devi stare calma Che fai? Gli sparo un rato Ah, gli hanno investito anche a me Per colpa tua Qua sono pazzi Gli NPC Andiamocene Sono quasi morti Andiamocene Andiamo va È arrivato anche un altro consolino E vai, dai, ascolta Adesso gli invitiamo Tutti nel club Sì Quindi la prossima missione La facciamo tutti assieme Un plotone Magari un plotone Sì, vabbè, dai Allora gestirei 4 Siamo pochi Comunque per quelli che vogliono entrare Vi faccio vedere con la home E la nostra crew Aiuto, mom investo Non lo so già Non è un buon momento È questa qui Two players One console Scritta così In questo momento siamo 29 membri Pochi ma buoni Anche qua Davvero Perché No, ma stiamo aumentando Si uniscono sempre Aumentando Sì, sì, sì La consolina è con la macchina della polizia qua fuori Cioè, c'è inseguita la polizia E lei l'ha finita con la macchina E lei ha rubato la macchina della polizia E ci sta tirando palle di neve Brava Non provare a tirare palle di neve Spì Spì Ascolta, quindi che dobbiamo fare? Quindi Vediamo se ci riesco Presidente Possiamo Smettete di tirare Stiamo in due a tirarti palle Irrispettose Dai, possiamo Ricerca e distruzione Competi contro i membri del tuo MC A chi trova e uccide più bersagli Vandalismo Tutti i membri dell'MC devono essere vicini E in sella una moto Oppure Monociclista Sui dal tuo MC A chi fa l'impennata più lunga Bene, possiamo fare una di queste Quale vuoi fare? Ricerca e distruzione Un po' di sana e amiche Vole competizione Non ha mai fatto male a nessuno Tra l'analtizio che cercherete di uccidere Riceverete una zona di caccia e una foto Ma il resto dipende da voi Dalle lancette dell'orologio Abbiamo Dieci minuti per andare ad ammazzarlo Sì, ma io ho la mia moto dentro Come faccio? Vai a prenderla Non posso entrare? Certo che puoi No, perché è impostato che tutti dovevamo uscire Non posso più entrare Io come faccio? E allora vai con un'altra moto Tanto sinceramente la moto è pure lenta Vai via, lasciami in pace Adesso ti butto giù È mio quel bersaglio No, si sgomma tantissimo con la nera Eh, lo so No, 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 no Si sgomma tantissimo con queste macchine che fanno schifo Almeno la moto fa comodo Foto del bersaglio Me l'ha mandata per messaggio Ok, allora Questo qui Maglietta verde è un pochettino rasato Allora, me l'hai detto tu quindi Maglietta verde è un pochettino rasato No, maglietta rossa Mi ero confuso Dimmi che è questo Dimmi che è questo No, non è lui Non è lui? No Accidenti Dobbiamo trovarlo in tutta quest'area? Ok Quindi Ce l'hai anche per messaggio se vuoi rivederti la foto Eh, ma io non penso che me l'abbia mandato Sì Sì, 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 l'ha mandato a tutti Ah, ecco, ma che brutto Eh sì, è molto brutto Mamma mia Dove si è cacciato? Ma non è che può essere dentro qualche negozio Cosa del genere? Sì, secondo me sì Ti hanno investita Sì Aiuto il trattore, mi vuole investire Ok, maglietta verde rasato Maglietta verde rasato Io provo a entrare nello store Va bene Provo a entrare qui, magari è qua Secondo me alla fine è questo qui Ed è semplicemente vestito in modo diverso Ma no, dai, secondo me no Uccide i civili abbasserà il punteggio Bravo Più punteggio per me Allora è questo punto Oh, non lo trovo, eh Niente Ma dov'è? Niente Da lì per uscita una persona Da lì dietro Quindi vuol dire che c'è qualcun altro? Non lo so Corro, 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 corro Sì, è più di gente Eccolo, eccolo No, è rimetto davanti Era lui? No, non era lui Sì, Ferinichi ha ucciso un bersaglio Non ci posso credere Oh mio Dio Ci ha dato un altro bersaglio sempre in questa zona Ok Tipo, credo sia cinese Come sia cinese? Credo di sì Ma abbiamo la foto? Sì Abbiamo la foto? Non ci credo che stai vincendo Eccolo, eccolo È cinese, no? Sì, credo di sì Però l'ho visto Dove? Cioè, nel senso, ho visto la foto Ok Ok Allora, fammi vedere Eccolo è lui Quale? Ucciso Ma no Nuova foto, nuova foto, nuova foto Ma è da matti sto vicino Questo è messicano, con i capelli lunghi Mi ha ucciso una macchina Ma come? È tutto a favore mio Sei messicano? No, no, no Che cavolo mi spari? Aspetta che sto tornando Accidenti, le macchine Ma sto messicano dove accidenti lo trovo? Mi sa che io ho perso la mia uccisione Perché ho ammazzato un civile Dici? Mi sa di sì Perché prima ero segnato in basso a destra Adesso ci sei solo tu Davvero? Sì Allora Non ci credo Questo no? Secondo me è questo Dimmi di no Io ci provo Dimmi che è quello? Ferrenicchi ha acceso un bersaglio Sì Sì Guarda che è difficile riconoscerli Sono diversi nelle foto Ok Ok, ho visto la prossima Dov'è? Dov'è? Lo voglio io Allora Ho due minuti per recuperare Stai stravincendo Dove sei? Ah Dove? Dentro il negozio non c'è Qui dietro non c'è Ma dai ma dove vado io? Non c'è mai nessuno Eh non è semplice Si nascondono bene questi disgraziati Qua c'è un'ambulanza Perché abbiamo ucciso un sacco di gente Direi È bellissima questa sfida È troppo divertente È troppo bella Qua? Siamo lei Siamo tutti qui Ciao Siamo tutti qua Siamo tutti qua Comunque sarebbe anche valido Ucciderci tra noi eh Se ci pensi Si può fare Perché non mi ricordo se col club Ci possiamo uccidere No no si può fare Si può fare Credo È cicciotto È una camicia a quadri Me lo devo ricordare Me lo devo ricordare assolutamente Servizio è chiusa All'area di caccia Dici Sì 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 Perché a me fa Alla ricerca del bersaglio ancora Non me l'ha contato? No no te l'ha dato Vedi che si è 600 Tre persone uccise Dovremmo andare nella nuova area E ad ammazzarne altri Ok Però 50 secondi Quindi ho perso Eh sì Decisamente Decisamente Hai vinto questa battaglia Mi ha mandato anche la nuova foto Ora sì sì Hai vinto E sono stata brava Sono stata brava Sì sì Devo ammetterlo Sono stata brava Sei stata brava Guarda la fine che fai Perché sei un perdente Vieni qua La fine che fai Vieni qua Ecco la fine che fai Vuoi rubarmi il mio club Vero? Ammettilo Vincitore Hai vinto ricerca di istruzione In alto a destra 23.100 Cosa? È tantissimo E più i 600 Perché ho ucciso il bersaglio A me hai pagato 3.000 Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto 3.000 come premio di consolazione Mi dispiace Mi dispiace davvero tanto Mi dispiace per te Però Dimmi È una figata È bellissima È stato troppo divertente Cioè dovevi proprio cercare Io pensavo che dovessimo andare nel posto E semplicemente uccidere un bersaglio Esatto Invece ogni volta cambiavano Quindi alla fine te la puoi Te la puoi gestire in modo molto Molto figo Cioè mi è piaciuto un sacco Troppo divertente Emozioni incredibili Sali su Ci saranno altre sfide Nei prossimi episodi E forse ci giocheremo davvero Chi è il presidente Nella prossima sfida Da questa è stata una vittoria schiacciante Lo so però non l'accetto Però Perché c'era comunque del caos Non avevamo ben capito No 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 Io avevo capito benissimo Sono andata dritta E li ho fatti tutti Ho fatto il gentiluomo Ti ho fatto uccidere il primo Diciamo che No veramente eravamo davanti Tu hai missato Io l'ho sparato in testa E ho vinto Cioè mi dispiace L'hanno visto tutti Ma sai cos'è? Che io non lo vedevo Come non lo vedevi? Cioè io arrivavo dalla parte opposta Ah E quindi ho cercato di mettermi in mezzo Per non farlo sparare a te Ah ho sparato pure te guarda Io non avevo la visione per spararlo Capito? Ah ok ok vabbè Però divertente Continuo a dirlo Quindi Finito l'episodio praticamente E' un tatuaggio Andiamo a farci un tatuaggio Che sinceramente abbiamo avuto un sacco di Di emozioni forti oggi Di emozioni forti Quindi un tatuaggio non sarà difficile da fare Tra cassaforti scassinate Bersagli uccisi Ma è l'aurora boreale? Oh che bello Ma c'è l'aurora boreale davvero? Qualunque cosa sia è fantastica Sì Lo è lo è lo è Non è un bug Ma tecnicamente non è di altri colori? Di solito dovrebbe essere verde E sul verde celeste Però la vediamo entrambi Non può essere un bug Oh qualunque cosa sia È bellissima in ogni caso Che figata Che bella Non sapevo ci fosse Fucile da cecchino 20.000 Non ce li ho Però mi posso comprare il fucile a pompa Dai Va bene Sto cercando il macete Perfetto Però ho mosso il fucile a pompa E mi prendo anche il fucile a pompa Qual è? Eh Quello vicino alla mitragliatrice Quella piccola Ok aspetta E mi è venuto un dubbio Della carabina speciale Questo è del 2005 giusto? Sì Ok Della carabina speciale Il silenziatore 12.000 Non ce li ho Vabbè Prossimo episodio ci armiamo anche meglio Mi sa perché ne abbiamo decisamente bisogno Facciamo questo Motostallone E nella mano destra Così entrambe le mani sono fatte E quello è finito Aspetta che non lo trovo Eccolo 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 Ti chiederai perché motostallone? Perché abbiamo rafforzato Diciamo la nostra reputazione Tra i vari motociclisti E quindi siamo diventati di motostallone Degli stalloni delle moto In realtà ne abbiamo trovato Era terribile da dire così Sì però ci sta Ci sta Non abbiamo trovato altro di bello Io non so perché Mi ha lasciato senza vestiti Non so perché Sai perché? Perché prima eravamo in un altro tatuatore C'è stata una sparatoria fuori Si è spaventato Si è chiuso E mi ha rubato i vestiti Se li ha portati via Sì guarda io non li posso più rimettere Probabilmente vi piacevano molto Cioè io in pieno inverno sono qui in costume da bagno Che bello Spiegali un pochettino come posso stare qua guarda Comunque Il prossimo episodio cosa andremo a fare? Il prossimo episodio faremo una challenge Faremo una challenge dove metteremo in palio una shark card Shark card Che dovrebbe chiamarsi così Praticamente è un codice che ci dà tot soldi nel gioco online Faremo una sfida contro noi stessi Cosa metteremo in gioco? Abbastanza soldi da poter comprare il primo edificio del Motocycle Club Esatto Quindi se riusciremo a completare questa challenge utilizzeremo questa card Se invece non ci riusciremo Questa card non la potremo utilizzare E dovremo farci soldi alla vecchia maniera Esatto Quindi sarà una sfida dove impazziremo nel vero senso della parola Vogliamo diciamo iniziare ad alternare questi due tipi di video Quindi il GTA Online dove facciamo le missioni Portiamo avanti la serie Compriamo macchine e moto Portiamo avanti appunto il nostro club E poi faremo tante altre cose E poi delle sfide collegate appunto a questa serie principale Dove facciamo delle challenge davvero complicate Mettendoci come premi possibili delle shark card da abbastanza soldi Che così danno una mano Ci danno un bel incentivo Ci facciamo una bella challenge in due Direi che è una bella idea Secondo me tra non vedere noi che farmiamo E lo facciamo tra un episodio e l'altro E almeno vedere una challenge dove ci giochiamo coi soldi Secondo me è più divertente così Esatto E quindi è meglio Comunque ci fermiamo così per questo video Speriamo che vi sia piaciuto E ci vediamo domani Per ragazzi se ci piace così Se ci piace così Diciamo il like E se è la prima volta che vi ho avuto il nostro video Potete considerarli Da di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao